Musica Spaccio, operazione scialla, 4 arresti, indagini partite dai carabinieri di Orta San Giulio dopo festini a base di alcol e droga Ultimo consiglio comunale dell'anno chiuso in polemica a Verbania e vivace seduta anche a Darona Indirittura ed arrivo la ristrutturazione di Villa Simonetta Intra Stop per ora il progetto di trasloco di alcune classi del Cobianchi La regione ha presentato scuola sicura per il ritorno sui banchi in presenza dal 7 di gennaio 4 le azioni 35.000 persone nel VCO e 69.000 in provincia di Novara sono i vaccinati ad oggi contro l'influenza che però non è ancora arrivata Fine anno tempo di bilanci per ASL, VCO e COC Quest'ultimo a causa della pandemia per la prima volta chiude in perdita Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie Cronaca in apertura di giornale Spaccio operazione scialla Stamattina 4 arresti Le indagini sono partite dai carabinieri di Orta San Giulio Dopo festini a base di alcol e droga In città l'attività di spaccio non si era fermata Neppure durante il lockdown di primavera Contrasto allo spaccio di droga operazione scialla 4 arresti Indagini partite dai carabinieri di Orta San Giulio Stamattina presto i militari della compagnia di Arona hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare Emessa dal GIP del Tribunale di Verbania Nei confronti di due uomini e due donne residenti nell'Alto e Medio Novarese Ritenute responsabili a vario titolo del reato di concorso nello spaccio di cocaina e hashish Due sono stati portati presso la casa circondariale di Verbania Per gli altri due disposti gli arresti domiciliari Sono state inoltre eseguite delle perquisizioni domiciliari Nel corso delle quali sono stati rinvenuti una singola dose di cocaina e un panetto da 100 grammi di hashish In relazione a ciò un quinto individuo è stato deferito all'autorità giudiziaria per spaccio di stupefacenti L'attività investigativa trae origine dagli accertamenti avviati dai militari della stazione carabinieri di Orta nel mese di gennaio 2020 in relazione al consumo di cocaina nel territorio ortese In particolare le informazioni assunte consentivano di venire a conoscenza di alcune feste a base di droga e alcol tenutesi sul territorio rifornite da due differenti reti dedicate allo spaccio dove consumatori abituali del comune di Orta si approvvigionavano per il consumo personale o di gruppo Le attività di indagine condotte dal personale della stazione carabinieri di Orta e coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Verbania, dottor Gianluca Periani protrattesi fino al mese di aprile 2020 con attività tecniche, servizi di osservazione, epedinamento e recupero dello stupefacente hanno permesso di deferire l'autorità giudiziaria di Verbania a nove persone che a vario titolo avevano concorso nello smercio di sostanze stupefacenti nei comuni di Orta, Arona e Castelletto sopra Ticino L'estensione della rete di spaccio veniva corroborata anche dalle numerose e spesso cospicue cessioni documentate in differenti occasioni L'attività non era cessata neanche durante il lockdown a marzo e aprile 2020 durante i quali gli spacciatori approfittavano dell'afflusso presso un supermercato di Castelletto sopra Ticino per stazionare all'esterno dell'esercizio commerciale tenendo in mano una busta per confondersi ma consegnando in realtà lo stupefacente agli acquirenti Alcune cessioni avvenivano anche tramite pagamento con una carta prepagata intestata all'acquirente ma in possesso dello spacciatore oppure con regolari bonifici bancari Nel corso della prolungata attività d'indagine sono stati segnalati al prefetto sette soggetti quali assuntori di stupefacente sono stati sequestrate circa 25 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish La denominazione shalla data all'operazione deriva dal termine abitualmente utilizzato dagli spacciatori allorquando l'accessione dello stupefacente andava a buon fine Ed ora cambiamo argomento, parliamo del Consiglio Comunale di Verbagna l'ultimo dell'anno che si è chiuso tra le polemiche, la maggioranza è stata accusata di atteggiamenti autoritari Ultimo Consiglio Comunale dell'anno in polemica a Verbagna sia per la modalità di svolgimento della seduta online che per la decisione di chiudere l'assemblea prima del previsto Damiano Colombo di Fratelli d'Italia aveva immediatamente protestato chiedendo se la decisione di sospendere poco prima delle 13 fosse per l'incombere della conferenza stampa del sindaco di bilancio di fine anno Scontri anche sul voto di alcuni punti con la vicepresidente del Consiglio Comunale Catiuscia Zucco di Prima Verbagna che aveva chiesto di tenere accese tutte le telecamere dei consiglieri di maggioranza collegati sostenendo che alcuni fossero al lavoro e non stessero effettivamente seguendo il Consiglio Nelle scorse ore poi è arrivata una nota dei gruppi di Prima Verbagna insieme per Verbagna e Movimento 5 Stelle accusando la maggioranza di aver avuto atteggiamenti autoritari veramente al limite della legittimità che vanno duramente stigmatizzati e spiegano alcuni consiglieri di maggioranza non si sa se fossero effettivamente presenti al momento del voto perché avevano telecamere e audio spenti sono state operate verifiche in tal senso ma per i primi punti all'ordine del giorno sono stati conteggiati anche consiglieri che non avevano praticamente mai accesso alla webcam e che perciò potenzialmente potevano non essere presenti anche il consigliere del PD Marco Tartari a fine della seduta aveva lamentato di non essere riuscito a intervenire per problemi di connessione nonostante ciò si legge nella nota Presidenta e maggioranza con fare autoritari oppure a fronte di queste sacrosante censure hanno tirato dritto nascondendosi dietro l'argomentazione che l'Assemblea è sovrana e stigmatizzano la decisione di chiudere la seduta ennesimo gesto prepotente, incivile e antidemocratico di questa amministrazione si è infatti anticipata la discussione dell'ordine del giorno della maggioranza sulle scuole non sono stati trattati quelli dell'opposizione si è poi scoperto che l'amministrazione, concludono avendo già fissato una conferenza stampa per le ore 13 aveva la necessità di liberarsi dei consiglieri di minoranza in tempo utile in barba all'agenda del Consiglio Comunale il continuo appellarsi alla sovranità dell'Assemblea della Vice Presidente Vicari Agosti è patetico, svilisce il ruolo dei consiglieri comunali ed è al tempo stesso preoccupante la minoranza si batterà senza sconti per il rispetto delle regole democratiche in tutte le sedi opportune il sindaco Silvia Marchionnini aveva risposto durante la conferenza stampa successiva al Consiglio spiegando che i punti da trattare erano stati esauriti invitando a evitare polemiche indirittura ad arrivo la ristrutturazione di Villa Simonetta Intra tornata alla sua antica bellezza stop per ora al progetto di trasloco nella villa di alcune classi del Cobianchi sono ormai terminati i lavori di ristrutturazione di Villa Simonetta Intra un importante intervento di restauro che ha costato 3.200.000 euro di fondi europei la villa fu di Francesco Simonetta, patriota risorgimentale che partecipò alle 5 giornate di Milano e alla spedizione dei Mille nella villa infatti dormì anche Giuseppe Garibaldi l'intervento di restauro ha rispettato la storia e tutte le caratteristiche della dimora con il recupero delle decorazioni neoclassiche e dove possibile anche delle parti originali dei pavimenti Villa Simonetta avrà una destinazione culturale e di educazione ambientale spiega il sindaco Silvia Marchionini oltre alla Casa del Lago l'intenzione dell'amministrazione sarebbe di accogliere alcune classi dell'istituto Cobianchi che ha problemi di spazi al momento però il consigliere provinciale delegato all'istruzione Giandomenico Albertella ha bloccato il progetto avviato con il Cobianchi in seguito al sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico dell'ente la villa infatti è concepita come spazio museale e quindi non idonea ospitare delle attività scolastiche non è chiaro inoltre secondo i tecnici della provincia chi dovrebbe sostenere le spese di adeguamento necessarie e rifondere eventuali danni causati dagli studenti e dalla provincia il consigliere delegato Albertella chiarisce che in una lettera del 9 novembre scorso al momento senza risposta sono stati posti appunto una serie di quesiti all'amministrazione verbanese essendo Villa Simonetta concepita come sede museale ci sarebbero alcuni lavori da fare per ospitare delle classi come l'installazione di 12 porte e approntare un sistema di illuminazione adeguato occorrerebbe capire chi si accollerebbe le spese per quanti anni è previsto questo uso lo stesso spiega tuttavia che la soluzione ottimale sarebbe ricavare nuove aule in numero sufficiente all'interno del plesso del Cobianchi e in questa direzione la provincia sta lavorando alla ripresa delle lezioni a gennaio pronte 6 nuove aule ultimate prima di Natale alle quali se ne aggiungeranno altre 5 entro l'inizio del prossimo anno scolastico investimenti sull'istituto per 1.150.000 euro per lavori anche di rimozione dell'amianto e adeguamento, prevenzione, incendi e a proposito di scuola oggi la regione Piemonte ha presentato scuola sicura 4 azioni per il ritorno sui banchi in presenza a partire dal 7 gennaio data riconfermata oggi dall'assessore competente la regione Piemonte ha presentato il piano scuola sicura studiato per garantire il ritorno in classe in sicurezza degli studenti e del personale scolastico un progetto che si fonda su quattro pilastri screening preventivo per tutti gli insegnanti e il personale ATA test di monitoraggio per gli studenti delle seconde e terze medie progetti territoriali personalizzati e percorsi dedicati per la scuola nei SISP questo progetto scuola sicura è finalizzato a riportare in presenza tutto il mondo della scuola con la massima sicurezza possibile e con l'obiettivo di mantenere poi la scuola in presenza è un progetto rivolto agli studenti al personale docente e a tutto il personale ATA proprio perché non si è voluto lasciare indietro nessuno e quindi coinvolge sostanzialmente tutte le scuole di ogni ordine e grado siano est statali e paritarie e le agenzie della formazione professionale Lo screening sarà effettuato su base volontaria C'è un progetto di screening modulare rivolto agli studenti delle seconde e terze medie che sono stati individuati come cluster da tenere maggiormente monitorato nell'ambito dello studio dei nostri epidemiologi e che coinvolge circa 75.000 studenti su base assolutamente volontaria Dall'altro ambito per il personale docente e per il personale ATA vediamo il coinvolgimento in Piemonte di circa 83.000 persone che dal 4 di gennaio tramite il medico di base potranno prenotare il tampone C'è anche la previsione per i docenti fuori sede e di conseguenza fuori regione che qui non hanno a disposizione il medico di base di avere dei percorsi dedicati nell'ambito dei SISP L'investimento iniziale è previsto di 7 milioni di euro per la fase che partirà dalla 4 gennaio e andrà avanti fino al 31 di marzo Andiamo ad Arona dove la gestione dei fondi scolastici e dei risparmi legati alla sospensione delle elezioni in presenza da parte dell'amministrazione Monti durante il Consiglio Comunale ha sollevato le critiche dell'opposizione È stata sicuramente vivace la seduta consigliare in videotelematica di martedì 29 dicembre l'ultima del 2020 che ha visto tutti rispondere all'appello A fare da smistratore della parola nello studio centrale del municipio di Arona il presidente Ferruccio Cairo Per prima cosa ha voluto ricordare la figura dell'ex consigliere Laura Franchini alla quale è stato dedicato un minuto di silenzio L'argomento che ha tenuto viva la discussione e messo in difficoltà la maggioranza è quando è stato letto dal consigliere di Arona Domani buttà il testo della mozione sulla gestione dei fondi scolastici Chiara Autunno ha annunciato che l'emergenza sanitaria ha portato ad un risparmio della gestione dei plessi scolastici di 72.000 euro Il risparmio è il risultato di minor spese per bollette di luce e gas per il riscaldamento L'assessore all'istruzione ha informato che l'avanzo è stato interamente devoluto come contributo alle varie associazioni della città Se i fondi erano ricavati d'avanzi destinati alla scuola alla scuola avrebbero dovuto rimanere ha rimarcato Buttà non sicuramente destinati ad altri capitoli L'operazione di distribuzione dei contributi è stata fatta in piena campagna elettorale sicuramente non corretto come periodo forse si volevano raccogliere voti? Pronta la risposta di Alberto Gusmeroli vice sindaco Buttà poteva risparmiarsi questa allusione che pareva il sostegno ad uno spot elettorale Le associazioni sono il valore aggiunto della nostra città La mozione è stata respinta con 12 voti dalla maggioranza 4 i favorevoli di Arona Domani e un astenuto Pietro Di Polito della lista Brianti sindaco Gusmeroli ha poi annunciato che la tassa sui rifiuti solidi urbani non aumenterà ma rimarrà con gli indicatori del 2016 sebbene chiusa l'istalica di Barengo che richiedeva 114 euro a tonnellata contro i 165 che ne richiede oggi l'impianto di Cavaglià Arona ha raggiunto l'85% di differenziata primo tra i comuni piemontesi sopra i 10.000 abitanti L'amministrazione aronese ha destinato 125.000 euro per le famiglie in difficoltà Alluvione di inizio ottobre la provincia del VCO ha stimato i danni 60 milioni di euro per le opere pubbliche 14,6 milioni per la viabilità di competenza e 850.000 euro per l'edilizia scolastica e la stima dei danni causati dall'alluvione di inizio ottobre e delle cifre necessarie per gli interventi di messa in sicurezza elaborata dagli uffici della provincia del VCO Per quanto riguarda le opere pubbliche 5.300.000 euro sono per interventi di somma urgenza cioè già realizzati per la rimozione di situazioni di rischio 35 milioni sono per opere urgenti quasi 20 milioni per lavori strutturali di sistemazione definitiva In tema di viabilità la somma urgenza ha richiesto poco meno di 900.000 euro 8 milioni serviranno per interventi urgenti e 5.600.000 per interventi definitivi Nessuna somma urgenza nell'edilizia scolastica ma lavori urgenti per poco meno di 400.000 euro è segnalata la necessità di 460.000 euro per interventi definitivi La provincia del Verbano Cusiossola dal mese di novembre scorso ha pieno accesso operativo alla piattaforma regionale Geoservizio Informativo per la gestione delle emergenze sul territorio della regione Piemonte La provincia accede al servizio sia per la fase di caricamento e di editing dei dati collegati alle richieste di contributo per le opere di competenza dell'ente sia per la visualizzazione l'interrogazione e lo scarico delle informazioni E tempo di bilanci di fine anno per l'amministrazione di Omenia che accanto alla pandemia ha subito pesantemente anche l'alluvione proprio di ottobre Direi che la città ha retto molto bene ha due eventi molto complicati molto anche difficili da gestire una città che comunque beneficia di una rete di associazionismo di primo livello e quindi un ringraziamento va a tutte le associazioni e tutti i volontari che ci hanno aiutato soprattutto nella pandemia nel Covid perché evidentemente famiglie in difficoltà persone che hanno avuto problemi sia con la gestione del virus ma anche col problema economico del lavoro siamo riusciti insomma a raggiungere un po' tutti e ad aiutare un po' tutti quindi un anno chiaramente da dimenticare anche l'alluvione è un problema che stiamo seguendo attentamente però direi adesso andiamo verso un 2021 che speriamo tutti che sia migliore e che possa riportarci anche un po' di serenità Ora un rammarico legato al 2020 e un motivo d'orgoglio legato all'azione amministrativa di questo anno che sta per chiudersi Beh un rammarico è legato a tutti i rallentamenti che purtroppo molte opere pubbliche hanno dovuto subire penso a cantieri interminabili come anche Tito Speri che mi rendo conto che creano problemi alla cittadinanza ma purtroppo tra Covid e altri problemi delle aziende appaltatrici siamo andati un po' in difficoltà ecco questo è un po' un rammarico ma vedremo di recuperare il vanto della città è come dicevo che è una città che ha una grande rete di solidarietà Un auspicio è il progetto che insomma ha cerchiato con il rosso in vista del 2021 Ma io ho chiaramente l'ambizione di approvare il Masterplan che è il progetto generale per lo sviluppo turistico di Omenia lo faremo a gennaio e dopodiché daremo il via a tutto questo sviluppo per la città che è un qualcosa che è legato anche a uno sviluppo economico per le categorie che hanno sofferto in quest'anno commercianti, esercenti e tutto il resto che vogliamo dargli una prospettiva diciamo di sviluppo futuro Siamo alla pagina sanitaria con l'ultimo bollettino regionale coronavirus nel VCO 49 nuovi positivi e 39 guariti nel Novarese 41 nuovi contagiati e 89 guariti nei due territori non si registrano nuovi decessi a livello piemontese 1.084 nuovi positivi pari al 5,8% dei 18.600 tamponi processati 33 decessi e 2.239 guariti scendono di 4 pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte attualmente 192 scendono di 72 ricoverati nei reparti covid ordinari al momento 2.957 isolamento domiciliare per quasi 28.000 persone E sono 34.932 persone nel VCO e 69.022 in provincia di Novara il numero delle persone vaccinate contro l'influenza la data odierna diffuso dalla regione Piemonte afferma l'assessore regionale della sanità Icardi sono 863.939 piemontesi vaccinati fino ad oggi contro il virus dell'influenza stagionale senza contare che quasi 100.000 dosi di vaccino si trovano ancora nei frigoriferi dei medici di medicina generale pronte per essere somministrate in più nei magazzini della sanità regionale sono disponibili ulteriori 38.500 dosi di vaccino oltre alle quasi 30.000 dosi che la regione ha messo straordinariamente a disposizione delle farmacie per la libera vendita al pubblico previa presentazione della ricetta medica una disponibilità che arriva dopo lo ricorderete i problemi nei rifornimenti nelle settimane passate Icardi spiega che la regione ha effettuato una ricognizione tra i medici curanti raccogliendo il fabbisogno di dosi necessarie a vaccinare le categorie a 20 diritto che ne hanno fatto richiesta e tutte le richieste sono risultate soddisfatte l'assessore parla di un bilancio positivo afferma che le loro previsioni risultano pienamente rispettate con richiami rispetto agli obblighi del fornitore che si sono dimostrati efficaci conclude non si è mai perso tempo e tutti hanno avuto modo di vaccinarsi nei termini utili ancora lo potranno fare per almeno tutto il mese di gennaio tanto più tenendo conto che in Piemonte il virus dell'influenza non si è ancora manifestato ed ora i bilanci di fine anno della nostra sanità un anno certamente difficile sentiamo la direttrice dell'ASL VCO Chiara Serpieri è stato un anno davvero difficile veramente impegnativo inaspettato come per tutti ha messo a dura prova la nostra umanità e anche la nostra professionalità abbiamo scoperto di non sapere tante cose abbiamo dovuto impararne in corsa tantissime abbiamo però in termini di opportunità avuto un'esperienza che nessuno di noi avrebbe mai pensato di sperimentare che ci ha insegnato tante cose quindi ricchissimo dal punto di vista professionale e umano molto pesante dal punto professionale e umano La sfida per il 2021? Allora intanto la prima cosa a cui noi tendiamo è quello di far bene il nostro lavoro principale quest'anno che è quello di portare a termine in perfetta tempistica e senza problemi la campagna vaccinale questo è il nostro core business di quest'anno stiamo lavorando molto duramente per questo e speriamo che la popolazione sia davvero disponibile a rendere questo un obiettivo di salute pubblica raggiungibile secondariamente se il covid ci permetterà di farlo vorremmo cominciare a lavorare su alcune diciamo prospettive di innovazione che sono possibili che a maggior ragione si sono dimostrate importanti in questo periodo pandemico che ruotano tutte intorno al concetto di innovazione digitale che sapevamo che in medicina nei nostri servizi fosse una cosa molto importante ma l'abbiamo scoperta e ribadita ancora più importante quindi quest'anno ci dedicheremo tanto anche alla implementazione di progetti di innovazione digitale che dovrebbero aiutarci a essere più efficienti più efficaci più tempestivi magari anche a divertirci un pochino e la dottoressa Serpieris sarà la protagonista della nuova puntata di Vivere in Salute in onda giovedì alle 18.45 ancora il venerdì alle 11 e alle 22 con lei continueremo a parlare di questo 2020 degli obiettivi 2021 ma soprattutto punteremo i riflettori sulla campagna vaccinale anti-covid che domenica parte nel VCO ed ora il bilancio di fine anno del centro ortopedico di Quadrante di Omenia che per la prima volta chiude in perdita a causa della pandemia ma che sta riprendendo gradualmente le proprie attività ordinarie per la prima volta dalla sua costituzione causa pandemia quest'anno il COC chiuderà con un risultato negativo lo riferisce il CDA della struttura omenese che si è riunito nei giorni scorsi rimarcando però la solidità della società che consentirà di assorbire il seppur significativo impatto della perdita è stata l'occasione per un bilancio dell'attività questa primavera il nosocomio è stato trasformato in ospedale covid con 89 posti letto a disposizione dell'unità di crisi e ha assistito un totale di 151 pazienti attualmente attivati 28 posti letto covid a disposizione del DIRMEI che hanno ospitato in totale fino ad ora 61 pazienti attivati anche 15 posti letto di medicina no covid a supporto delle esigenze dell'azienda sanitaria sospesa nella prima e seconda fase della pandemia l'attività chirurgica ed ambulatoriale non urgente è differibile il consiglio ringrazia tutti gli operatori che si sono impegnati per affrontare l'emergenza e i tanti donatori che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza all'ospedale e ai sanitari dal COC spiegano che il contenimento del numero dei ricoveri negli ospedali e l'inizio della campagna vaccinale anti covid consentono di riprendere gradualmente l'attività ordinaria anche per le prestazioni non urgenti attivato un numero di telefono dedicato per la prenotazione delle visite ambulatoriali e delle prestazioni diagnostiche e lo 0323 66 01 199 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 sono oltre 1800 le prestazioni disponibili nel solo mese di gennaio tra visite specialistiche ed esami di diagnostica radiologica pur l'attività chirurgica prevalentemente ortopedica ha ripreso la propria attività il CDA ha anche approvato seppur con alcune riserve che saranno portate all'attenzione della regione il contratto che regola i rapporti con l'ASL propedeutico alla stabilizzazione definitiva del COC obiettivo per il 2021 e qui chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito internet vcoazurativu.it e alle nostre pagine social grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione